www.feyyoutube.com 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 Io stavo cercando degli illuminati delle persone sapienti e mentre cercavo un bel giorno voi proprio voi siete arrivati qui non li quanto più che cosa? i maledetti giorni da quando siamo qui mi sembra esserci nato in questa solitudine perchè ti sei fermata qua? questo è un posto strano dove siete finiti guarda che quelli non hanno niente in mano l'hanno detto loro diciamo che le cose cambiano anche le persone pure tu eh ma tu non ci tieni a lei? non l'hai visto dove sono arrivato? l'hai visto o no? adesso finisco nei casini io allora che vogliamo fare? rubio che vuol dire che cercavano me? tieni leggi la pagina 33 ah dai non esagerare è solo una persona dai maestro io la finitura non la voglio fare io al gabbro non voglio finire io non so affatto per sbarre Sergio con affetto non ti faranno male tutte queste sigarette le vedi quelle nuve? e beh anche Dio è un fumatore